Lunghi momenti di tensione ieri in aula e alla fine il giudice Miriam D'Amore ha disposto all'allontanamento di diversi operai dell'Indotto Eni aderenti all'Osservatorio Nazionale Amianto. I lavoratori stavano assistendo all'udienza in corso scaturita dall'inchiesta sulla gestione della vasca 4 dell'isola 32 della fabbrica di Contrada Piana del Signore. A rispondere alle accuse sono manager e tecnici del cane a sei zampe. Gli operai che da anni denunciano la loro lunga esposizione alle fibre d'amianto hanno dissentito sul contenuto delle testimonianze rese da operatori della multinazionale pronti a sostenere che la copertura della vasca 4 sarebbe sempre stata regolare senza anomalie rispetto alle percentuali d'amianto riscontrate. Gli animi si sono accesi e diversi operai colpiti anche da gravi patologie hanno alzato i toni. Il giudice D'Amore ha ordinato il loro allontanamento. In aula alle domande del PM Pamela Cellura e dei legali delle parti hanno risposto operatori in servizio nella fabbrica di Contrada Piana del Signore. In base alla versione resa la vasca 4 sarebbe stata sempre sotto monitoraggio con un'adeguata copertura. Otto anni fa però i militari della Capitanera di Porto su disposizione dei PM della Procura fecero scattare il sequestro. La copertura del tutto deteriorata avrebbe favorito la dispersione in atmosfera delle pericolose fibre d'amianto. La descrizione resa dei testimoni contrasta con quanto dichiarato da Vincenzo D'Agostino, altro operatore in servizio nell'area delle discariche che più volte segnalò disfunzioni e anomalie, come ha raccontato nel corso del dibattimento. Davanti a due versioni contrastanti legali di parte civile, Giuseppe Donegani, Davide Ancone e Salvo Macri, rappresentanti di ONA, lavoratori esposti e delle associazioni Aria Nuova e Amici della Terra, hanno chiesto un confronto in aula tra lo stesso D'Agostino e gli operatori chiamati a testimoniare.